Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra la Strasagna e Ginestra Fiorentina si segnala un chilometro di coda in direzione Livorno. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il rifristino urgente della pavimentazione tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sul raccordo Siena-Firenze, per lavori stanotte, in orario 22.06, sarà chiuso il tratto tra San Casciano Sud e Impruneta, in entrambe le direzioni, e sarà chiuso anche lo svincolo di San Casciano Nord. A Firenze si ricorda che è stata prorogata fino a fine aprile la sospensione dell'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!